Sono un'infermiera di Opera San Francesco per i poveri in Milano e accogliamo tutti i giorni i pazienti che arrivano da diversi paesi, da diverse realtà sociali in modo particolare i più poveri e i più fragili e li curiamo. Vengono da noi perché la nostra mission è dare una mano all'uomo tutti i giorni e a tutti gli uomini che hanno bisogno. Per le malattie croniche tipo cardiovascolari, diabetici, pazienti che hanno infezioni per la scarsa igiene perché sono pazienti che vivono per strada come i senza tetto, ogni anno eroghiamo circa 33.000 prestazioni sanitarie di diverse specialità per circa 9.000 persone. In Opera San Francesco riusciamo ad aiutare tante persone grazie anche ai farmaci che il Banco Farmaceutico ci regala e per noi è un grande aiuto. Sabato 10 febbraio andate in farmacia e donate un farmaco per i poveri. Ricordatevi di partecipare alla giornata di raccolta del farmaco del Banco Farmaceutico perché nessuno debba mai più scegliere se mangiare o curarsi.